benedetto marcello il teatro alla moda ossia metodo sicuro e facile per ben comporre ed eseguire l'opera italiana in musica all'uso moderno nel quale si danno avvertimenti utili e necessari a poeti compositori di musica musici dell'uno e dell'altro sesso impresari suonatori ingegneri e pittori di scene parti buffe sarti paggi comparse suggeritori copisti protettori e madri di virtuose ed altre persone appartenenti al teatro dedicato dall'autore del libro al compositore di esso stampato nei borghi di belisania per al di viva licante all'insegna dell'orso impeata si vende nella strada del corallo alla porta del palazzo d'orlando come pure in milano da francesco agnelli stampandosi ogni anno con nuova aggiunta munus et officiu nil scribens ipse docebo unde parentur opes l'autore del libro al compositore di esso a voi o mio dilettissimo compositore del libretto presente questo mio libretto consacro imperciò che se per vostro piacere e per sollevarvi dalle noiose cure si giocosa prosa in assai volgar frase perché ben si intenda io dettai giusto ben sia che a voi medesimo l'indirizzi perché è cosa già vostra quando per mia comparisce voglio lusingarmi però che la presente operetta non sia per riuscir discara o di poco giovamento a chiunque dei teatri è solito approfittarsi essendo raccolte in essa molte delle più ragguardevoli cose che importano a ben riuscire nelle moderne sceniche operazioni pure se contro di me si scopriranno dei malevoli detrattori spero che in voi solo affidandomi saprete ben persuaderli e placarli so purtroppo per dir davvero che molti a cui la correzione sopra le malfatte cose non piace diranno che questa mia fatica è inutile e vana chiamandomi altri sprezzatore della moderna virtù ma ciò seguendo avremo parimente un piacere scambievole invedendo risentirsi taluni li quali come colti nel comune difetto crederanno che appostatamente per loro io a scrivere sia mi posto e voi di loro precisamente ridete frattanto o indiviso mio amico prendete a grado questo mio dono come presentatovi da chi senza di voi non può vivere e state sano se non volete vedermi ammalato addio ai poeti in primo luogo non dovrà il poeta moderno aver letti né leggere mai gli autori antichi latini o greci imperciò che nemmeno gli antichi greci o latini hanno mai letti i moderni non dovrà similmente professare cognizione veruna del metro e verso italiano toltane qualche superficiale notizia che il verso si formi di 7 o 11 sillabe con la quale regola potrà poi comporne a capriccio di 3 di 5 di 9 di 13 e di 15 ancora dirà bensì di aver corsi gli studi tutti di matematica di pittura di chimica di medicina di legge eccetera protestando che finalmente il genio l'ha condotto con violenza alla poesia non intendendo però il vario modo di ben accentare rimare eccetera eccetera non li termini poetici non le favole non le storie ma introducendo anzi nell'opera e sue per lo più qualche termine delle scienze sopra accennate o d'altre che non abbiano punto che fare con la poetica istruzione chiamerà pertanto dante petrarca riosto eccetera poeti oscuri aspri e tediosi e per conseguenza nulla o poco imitabili sarà bensì provveduto di varie moderne poesie dalle quali prenderà sentimenti pensieri e gli interi versi chiamando il furto lodevole imitazione ricercherà il poeta moderno prima di compor l'opera una nota distinta dall'impresario della quantità e qualità delle scene che esso impresario desideri per introdurle tutte nel dramma avvertendo se vi entrassero apparati di sacrificio di cene di cieli in terra o d'altro spettacolo di intendersi bene con gli operari cioè con quanti dialoghi soliloqui a riette debba egli allungare le scene antecedenti perché abbiano comodo di preparare ogni cosa benché perciò fare l'opera poi convenga snervarsi e satte di ludienza soverchiamente scriverà poi tutta l'opera senza formalizzarsi azione veruna della medesima bensì componendola verso per verso a ciò che non intendendosi mai l'intreccio dal popolo stia questi con curiosità sino al fine avverta sopra ogni cosa il buon poeta moderno che siano fuori ben spesso tutti gli personaggi senza proposito quali poi ad uno dovranno partire cantando la solita canzonetta non ricercherà mai il poeta l'abilità degli attori ma piuttosto se l'impresario sarà provveduto di buon orso di buon leone di buon rossignolo di buone saette terremoti lampi eccetera introdurrà una scena magnifica e di curiosa apparenza in fine dell'opera perché il popolo non parta a mezzo chiudendo con il solito coro in onore del sole o della luna o dell'impresario dedicando il libro a qualche gran personaggio cercherà che questi sia piuttosto ricco che dotto patteggiando il terzo della dedica con qualche buon mediatore che sia poi cuoco o maestro di casa del soggetto medesimo ricercherà in primo luogo da questi la quantità e qualità dei titoli con i quali deve adornare il suo nome nel frontespizio accrescendo poi detti titoli con eccetera 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 esalterà la famiglia e le glorie degli antenati usando ben spesso nella epistola dedicatoria li termini di liberalità animo generoso eccetera ne trovando nel personaggio siccome sovente accade motivi di laude dirà che egli tace per non offendere la di lui modestia ma che la fama con le sue cento sonore trombe spargerà dall'uno all'altro polo il di lui nome immortale chiuderà finalmente con dire per atto di profondissima venerazione che bacia i salti dei pulci dei piedi dei cani di sua eccellenza sarà utilissima cosa al poeta moderno di fare una protesta ai lettori che ha composta l'opera negli anni più giovanili e se potesse aggiungervi d'aver ciò fatto in poche giornate benché gli avesse lavorato intorno più anni ciò appunto sarebbe da buon moderno mostrando scostarsi affatto dall'antico precetto nomunque prematur in annum eccetera eccetera in tal caso potrà dichiararsi ancora ad essere gli poeta per solo divertimento a motivo di sollevarsi da occupazioni più gravi che era lontano dal pubblicare la sua fatica ma per consiglio d'amici e comando dei padroni si è indotto a ciò fare non mai per desiderio di lode o speranza di lucro di più che la virtù insignia dei rappresentanti l'arte celebre del compositore della musica e la destrezza delle comparse e dell'orso correggeranno i difetti del dramma nella sposizione dell'argomento farà un lungo discorso intorno ai precetti della tragedia dell'arte poetica riflettendo con sofocle euripide aristotele orazio eccetera aggiungendo infine che conviene al poeta corrente abbandonare ogni buona regola per incontrare il genio del corrotto secolo la licenziosità del teatro la stravaganza del maestro di cappella l'indiscretezza dei musici la delicatezza dell'orso delle comparse eccetera avverta però di non trascurare la solita esplicazione degli tre punti importantissimi di ogni dramma il loco il tempo e l'azione significando il loco nel tal teatro il tempo dalle due di notte alle sei l'azione l'esterminio dell'impresario non importa che il soggetto dell'opera sia storico anzi essendo state trattate tutte le storie greche e latine dagli antichi latini e greci e da più scelti italiani del buon secolo appartiene al poeta moderno l'inventare una favola fingendosi nella medesima risposte d'oracoli naufragi reali mali auguri di bovi arrostiti eccetera bastando solamente che sia la notizia del popolo qualche nome storico delle persone tutto il rimanente adunque sarà un'invenzione a capriccio avvertendo sopra ogni cosa che i versi non siano che 1200 in circa comprese le ariette per rendere poi all'opera maggior reputazione cercherà il poeta moderno che il titolo sia piuttosto una principale azione della medesima che il nome di un personaggio verbi grazia invece di amandis di bovo di berta al campo eccetera dirà l'ingratitudine generosa i funerali per far vendetta l'orso impeata eccetera gli accidenti dell'opera saranno prigionie stili veleni lettere cacce di orsi editori terremoti saette sacrifici saldi pazzie imperciò che da tali impensate cose il popolo resta oltremodo commosso e se mai si potesse introdurre una scena nella quale alcuni degli attori si mettessero a sedere ed altri a dormire in un bosco o giardino nel qual tempo gli venisse insidiata la vita e si risvegliassero il che mai non si è veduto nel teatro italiano ciò sarebbe un toccare l'estremo della meraviglia nello stile del dramma non dovrà il poeta moderno porre molta fatica riflettendo che deve essere ascoltato ed inteso dalla moltitudine popolare che però ad effetto di renderlo più intellegibile ometterà gli soliti articoli userà gli insoliti lunghi periodi epitetando abbondantemente quando gli occorra compire qualche verso di recitativo o di canzonetta sarà provveduto poi di gran quantità d'opere vecchie delle quali prenderà soggetto e scenario ne cambierà di questi che il verso e qualche nome dei personaggi il che farà parimente nel trasportare drammi dalla lingua francese dalla prosa al verso dal tragico al comico aggiungendo o levando personaggi secondo il bisogno dell'impresario farà gran brogli per comporre opere ne potendo altro fare si unirà con altro poeta prestando il soggetto e verseggiandolo insieme con patto di partire il guadagno della dedica e della stampa non lascerà partire assolutamente il musico della scena senza la solita canzonetta e particolarmente quando per accidente del dramma dovesse quelli andare a morire ammazzarsi bever veleno eccetera non leggerà mai tutta l'opera l'impresario bensì gliene reciterà qualche scena interrottamente e replicatamente quella del veleno o del sacrificio o delle sedie o dell'orso o del saldi aggiungendo che se quella tal scena gli falla non occorre più compor opere avverta il buon poeta moderno di non intendersi punto di musica imperciò che tale intelligenza era proprio degli antichi poeti secondo strabone plinio plutarco eccetera li quali non separarono il poeta dal musico nel musico dal poeta come furono anfione filamone demodoco terpandro eccetera 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 le ariette non dovranno avere relazione veruna al recitativo ma conviene fare il possibile di introdurre nelle medesime per lo più farfalletta mossolino rossignuolo quagliotto navicella copanetto gelsomino viola zotta cavo rame pignatella tigre leone balena gambaretto d'indiotto capon freddo eccetera 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 in perciò che in tal maniera il poeta si fa conoscere buon filosofo distinguendo coi paragoni le proprietà degli animali delle piante dei fiori eccetera prima che l'opera vada in scena dovrà il poeta lodare musici musica impresario suonatori comparse eccetera se l'opera poi non avesse felice incontro dovrà esagerare contro gli attori che non la rappresentano conforme l'intenzione sua perché non pensano che a cantare contro il maestro di cappella che non ha intesa la forza delle scene non badando egli che a far la riette contro l'impresario che per soverchio risparmio la posta in scena con poco decoro contro suonatori e comparse tutti ogni sera ubriachi eccetera protestando ancora che gli aveva composto il dramma in altra maniera che ha convenuto levare aggiungere ad arbitrio di chi comanda e particolarmente della incontentabile prima donna e dell'orso che lo farà leggere nell'originale che al presente appena lo riconosce per suo e chi ciò non credesse lo dimandi la bandara di casa che prima di ogni altro l'hanno letto e considerato eccetera nelle prove dell'opera non dirà mai l'intenzione sua avere un degli attori riflettendo saviamente che questi vogliono fare a modo loro ogni cosa se qualche personaggio per convenienza dell'opera fosse scarso di parte gliene aggiungerà subito che ne venga richiesto o dal virtuoso o dal di lui protettore avendo sempre preparato qualche centinaio di ariette per poter cambiare aggiungere eccetera non trascurando di riempire il libro dei soliti versi oziosi segnati con virgolette se si trovassero in una prigione marito e moglie e che l'uno andasse a morire dovrà indispensabilmente restare l'altro per cantare una rietta la quale dovrà essere di allegre parole per sollevarla mestizia del popolo e per fargli comprendere che le cose tutte sono da scherzo se due personaggi parlassero amorosamente tramassero congiure insidie eccetera dovranno sempre ciò fare alla presenza dei paggi e delle comparse occorrendo ad un personaggio di scrivere farà il poeta portare un tavolino con sedia dopo cambiata la scena quale farà parimente levare subito scritta la lettera perché detto tavolino non debba mai supporsi addobbo del luogo dove si scrive lo stesso osserverà del trono sedie canapè sedili d'erbe eccetera introdurrà nelle sale regge balli di giardinieri e nei boschi di cortigiani avvertendo che il ballo di piro può entrare in sala in cortile in persia in egitto eccetera in caso si accorgesse il poeta moderno che il musico pronuncia male non dovrà però mai correggerlo in perciò che ravvedendosi il virtuoso e parlando schietto potrebbe minorarsi l'esito dei libretti ricercato da personaggi per qual parte debbano entrare uscire muover le braccia e come vestirsi lascerà che entrino escano si muovano e si vestano a modo loro se i metri dell'aria non piacessero al maestro di musica gli cambierà subito introducendo ancora nell'aria a capriccio del medesimo venti tempeste nebbie sirocchi greco levante tramontana eccetera molte dell'aria e dovranno essere lunghe a segno che alla metà di esse non si ricordi più del principio l'opera dovrà rappresentarsi con soli sei personaggi avvertendo che due o tre parti siano introdotte in maniera che occorrendo possano levarsi senza guastare l'intreccio del dramma la parte di padre o di tiranno quando sia la principale dovrà sempre appoggiarsi a castrati riservando tenori e bassi per gli capitani di guardia confidenti del re pastori messaggeri eccetera poeti di poco credito avranno tra l'anno impieghi forensi fattorie soprintendenze economiche copieranno foglietti correggeranno stampe diranno male l'uno dell'altro eccetera 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 pretenderà il poeta un palchetto dall'impresario metà del quale affitterà molti mesi prima che l'opera vada in scena e tutte le prime sere riempiendo l'altra metà di maschere quali condurrà franche di porta visiterà spesso la prima donna in perciò che per ordinario dipende da questa l'esito dell'opera buono o tristo che abbia a succedere e da genio di questa regolerà il dramma aggiungendo e levando parte a lei all'orso o ad altri personaggi eccetera ma si guarderà di non dargli ad intendere cosa veruna dell'intreccio dell'opera perché la virtuosa moderna non deve intenderne punto informandone al più parte la signora madre padre fratello o protettore della medesima visiterà il maestro di cappella gli leggerà il dramma più volte avvisandolo dove il recitativo deve andare lento dove presto dove appassionato eccetera non dovendo rilevare il compositore moderno di musica veruna di tali cose e gli incaricherà poi nell'aria e brevissimi ritornelli e passaggi ma piuttosto molte repliche intere delle parole perché meglio si goda la poesia farà cerimonie con suonatori sarti orso paggi comparse eccetera raccomandando a tutti l'opera sua eccetera eccetera eccetera